Trovo questo libro nuovo sulla didattica e la scuola del flotto attraverso veramente utile, innovativo da un certo punto di vista anche se comprende cose che forse si conoscono già, si sono già sentite, ma ne comprende altrettante nuove e comunque sviscerate in ogni dettaglio in maniera veramente chiara. Sono stato onorato all'inizio e contento di essere stato coinvolto nel progetto, ho dato il mio piccolo contributo assieme a tanti altri colleghi e flautisti come ho visto, soprattutto su aspetti a cui tengo molto come la postura del corpo e delle mani e altre cose riguardanti la respirazione. È veramente un libro che spiega in maniera chiara, semplice, diretta anche perché è pensato un po' per i più giovani, tutti gli aspetti importanti e fondamentali del flotto, dalla postura appunto alla esecuzione finale in concerto. In realtà secondo me è un validissimo apporto anche per i professionisti, i docenti e le persone tra virgolette più grandi che si vogliono approfondire qualche argomento oppure vogliono ancora ampliare con esercizi nuovi, quello che affrontano già giornalmente nella loro didattica. Lo trovo molto interessante anche per i ragazzi perché con l'illustrazione e i disegni che sono creati all'interno è veramente piacevole da consultare, oltre che utile da studiare e sicuramente lo consiglio da affiancare a tutti i metodi esistenti, validi come un ulteriore apporto e forse un qualcosa di nuovo appunto e di più che mancava per tra virgolette costruire il flautista dalla ala a z, quindi è una lettura, è uno studio molto interessante e consigliatissimo.